Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele e bentornati sul mio canale. Oggi in questo video voglio festeggiare i miei primi 1000 iscritti. Lo so, per molti è un piccolo traguardo, per me invece è il raggiungimento di un obiettivo che fino a poco tempo fa era semplicemente impensabile. Quindi per ringraziarvi del continuo supporto e dei numerosi incoraggiamenti che arrivano ogni giorno, ho deciso di fare una giveaway mettendo in palio una Nintendo eShop Card dal valore di 25€, questa qui. A giudicarsela è molto semplice, per partecipare a questa piccola lotteria basterà iscriversi al canale, lasciare un like al video e aggiungere un commento qua sotto. Effettuerò l'estrazione del vincitore personalmente tramite una live dedicata sul sito Viola e avrete tempo fino alla mezzanotte di sabato sera per confermare la vostra partecipazione. Molto semplice no? Ovviamente se l'iniziativa avrà un buon successo sarò felicissimo di replicarla in futuro e perché no far diventare le giveaway proprio degli appuntamenti fissi del canale. Quindi mi raccomando condividete il più possibile questo video e lasciate un like per iniziare questo settembre nel migliore dei modi possibili. Credetemi siamo solo agli inizi ma se continuerete a seguirmi nei prossimi mesi ne vedrete delle belle. Prima di salutarci vi ricordo tutti i passaggi necessari per diventare dei potenziali vincitori. Iscrivetevi al canale, mettete like al video e lasciate un commento scrivendo quello che preferite, anche un semplice partecipo va benissimo. Questi passaggi vanno effettuati entro la mezzanotte di sabato sera, a scanso di equivoci avete tempo fino alla notte tra il 31 agosto e il primo settembre. Dopodiché domenica sera ci sarà l'estrazione del vincitore in live sul mio canale personale sul sito Viola. Vi lascio in descrizione tutti i link necessari per partecipare e anche l'indirizzo del mio server Discord. Nel caso ne aveste bisogno potrete chiedere lì ulteriori informazioni. Non mi resta che augurarvi una bella botta di cubo e ringraziarvi nuovamente per supportarmi in questa avventura. Io sono il Poro Michele, potresti vincere, ciao!